Un fatto spiacevole, diciamo che dopo si è trasformato in una cosa piacevole, io ho perso il lavoro a inizio 2013 e avendo un anno di disoccupazione, la crisi e tutte quelle cose di mio socio ingegnere, stimolato anche da lui io ho usato il mio tempo per sviluppare e cercare di vedere se questa passione poteva diventare un'attività cosa che si è verificata nel 2015 quando siamo nati con la produzione come azienda